I genitori naturalmente importantissimi anche loro col cilindro, la mamma aveva questo berretto tanto simpatico, sfizioso, quei pizzetti avete visto copre orecchie perché era freddo da noi allora bisognava vestire caldo, però non si rinunciava a quel tanto di frivolezza e allora vedete che c'è il filo blu di seta, è paspolato col filo blu di seta e i pizzi, il collo di pizzo fatto a mano quindi molto importante, molto elegante anche la mamma della sposa con la catena in corallo e il corallo senz'altro non veniva dalle montagne ma veniva appunto dal mondo, si portava dal mondo importato quindi ecco grazie anche a voi genitori grazie mille 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 grazie mille